Il centro storico ed il patrimonio ritrovato dall'albergo diffuso al centro commerciale naturale, i nuovi progetti per un turismo innovativo. Sono state queste le tematiche trattate ieri pomeriggio nel corso di un convegno organizzato dall'Associazione Il Sole di Polla, presso la Sala San Francesco del Santuario di Sant'Antonio a Polla. A presenziare all'incontro culturale, tra gli altri, Enrico Bottiglieri, presidente della Confesercenti Salerno, Vanni Ritorto, vicepresidente dell'Associazione Il Sole di Polla, Gennaro Pisacane, Assotel Salerno, Attilio Romano, presidente Gallo Vallo di Diano e Giancarlo Dallara, docente di marketing del turismo e presidente dell'Associazione Nazionale Alberghi Diffusi. I relatori del convegno hanno dato vita ad un interessante confronto sui diversi aspetti legati allo sviluppo e al turismo sostenibile, con l'inevitabile accostamento ai preoccupanti dati sull'economia e sull'occupazione. Un focus sui centri storici che negli ultimi anni hanno conosciuto un lento e graduale degrato a causa dello spopolamento. Ma come si può ridare nuova linfa ai centri storici? La risposta sta nello sviluppare una nuova idea di turismo ed ospitalità davvero particolare, che già in altre regioni italiane ha avuto un discreto riscontro. La tipologia di albergo diffuso ha lo scopo di trasformare gli edifici in disuso all'interno del paese in alloggi. Questa struttura alberghiera ex novo ha trovato il maggior successo nei piccoli borghi, dove il turista si trova immerso nella realtà locale in prima persona. Un'altra forma di sviluppo sostenibile che i relatori hanno illustrato ai presenti è stato quello del centro commerciale naturale. Questo esperimento rappresenta un sistema di esercizi coordinato e integrato fra loro, da una politica comune di sviluppo e di promozione del territorio, una rete commerciale fatta da attività collocate su una stessa area. Intanto domani, sempre l'associazione Il Sole di Polla, impegnata su più fronti, organizza una giornata di studio sulla dislessia, che si terrà al centro sociale Don Bosco a Polla. Un incontro dibattito che vedrà la partecipazione della psicoterapeuta Antonella Modio, coordinatrice della Regione Basilicata dell'Associazione Italiana di Slessia.